Anche se nell'immaginario collettivo c'è l'immagine di un'invasione dell'Italia, se oggi c'è un'emergenza non è quella dell'invasione ma dell'esodo, che soprattutto negli ultimissimi anni sta avvenendo dal nostro Paese. Non solo degli italiani ma anche di molti immigrati che stanno iniziando una nuova tappa della loro migrazione. Quindi paradossalmente sono più quelli che lasciano il suolo italiano che non quelli che entrano. Sono soprattutto i giovani ma un dato anche sorprendente del rapporto di quest'anno e che invece è in forte crescita anche la fascia di popolazione sopra i 50 anni. Quindi sia quelli che hanno perso l'occupazione e che non riescono a trovare in Italia un loro lavoro, ma anche i nonni, i genitori che raggiungono il figlio e che non si rassegnano a vedere i nipotini soltanto via Skype e quindi decidono di raggiungerli. O anche pensionati che non riuscendo a vivere in modo dignitoso nel nostro Paese, con la loro pensione vanno a vivere in Paesi come il Marocco, la Romania, che offrono maggiori possibilità anche con uno stipendio, una pensione non così alta. La Chiesa è una rete sparsa su tutti i continenti, su tutti i Paesi. Questo rapporto vede la collaborazione di 64 persone, esperti e ricercatori, sparsi un po' sul nostro pianeta. Questo credo sia un'opportunità unica. È importante questa fotografia perché la mobilità, l'immigrazione cambia, assume caratteristiche diverse. Non è più la famiglia che va a stabilirsi in un altro Paese come accadeva nel dopoguerra. Molto spesso sono giovani che noi vediamo piuttosto immobilità, e cioè che un anno possono essere a Londra, l'anno dopo a Barcellona o a Berlino. Quindi è importante comprendere come avviene questa mobilità e soprattutto cercare di alimentare una circolarità che possa anche avere delle ricadute positive anche sul nostro Paese. Grazie. Grazie. Grazie.